Blythe attacca di mano destra, sorbe il contatto e va su, si appoggia a tabellone, prima i due si fa vedere Mokevi su scontro Thomas, Dambone però decide di andare da Blyat che attacca con la mano sinistra va su, di destra in secondo tempo, Trevon di sconti, Blyat punta la partenza, poi si prende il tiro da fermo, senza ritmo, questo è difficile il tap in, vincente di Blyat e adesso Blyat si sente caldo, è caldo Blyat Blyat Blyat